Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Qualche mese fa avevo dedicato una pillola a uno dei treni più leggendari della storia, cioè l'Oriente Express, questo treno meraviglioso, pieno di lusso, pieno di storie, che nei suoi lunghi anni di traversata attraverso l'Europa fino all'Oriente lo avevano riempito e trasformato in un treno mitologico. Molti dei commenti sotto quel video e poi i commenti che mi sono arrivati in privato, però, mi facevano una richiesta, erano interessati ovviamente alla storia dei treni, ma chiedevano di concentrare l'attenzione maggiormente sull'Italia, sia per provare a raccontare quale fosse l'origine dei treni in Italia, delle ferrughe italiane, ma anche provare a raccontare se ci fosse un corrispettivo dell'Oriente Express tutto italiano. Dato che io sull'argomento non ne so assolutamente nulla, ho deciso di rivolgermi a quello che mi aveva aiutato, anzi mi aveva praticamente scritto da capo a fine la pillola appunto sull'Oriente Express, cioè Francesco Bocchicchio, che è uno storico, autore del libro che vi metto qui a fianco, se foste interessati, dedicati ai treni di lusso, che mi aveva letteralmente creato quella pillola. E così, di discussione in discussione, abbiamo deciso di fare qualcosa di leggermente diverso. invece che essere direttamente io a rispondere alle vostre domande, perché qua più che una pillola, su un unico argomento si trattava di rispondere ad alcune domande, abbiamo pensato di fare una piccola intervista. Con io, che rappresento l'appassionato di storia, che gli farò le domande, e lui, che è l'esperto, che proverà a rispondere. Quindi, dopo la sigla, inizieremo con un'intervista, come abbiamo fatto qualche settimana fa con un attore che parlava appunto di storia. Prima di farlo, se non volete perdervi le prossime puntate, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati quando esce un nuovo video, sigla, e poi iniziamo la nostra intervista. Benvenuto Francesco, benvenuto, grazie mille di essere qui con noi. Dottor Bochicchio, forse devo essere più preciso, insomma. Grazie mille, grazie mille di tutto. Sarà una chiacchierata abbastanza ampia. Guarda, quando abbiamo fatto la pillola dedicata, che abbiamo fatto insieme, dedicata all'Oriente Express, devo dire che ci sono stati tantissimi commenti legati al fatto che abbiamo parlato di un treno straniero, per così dire, che per carità per un periodo è anche passato in Italia, ma comunque con una storia legata più che altro all'estero, e tanti hanno detto, ma perché non parlate anche dei treni italiani? E allora tu mi sei venuto incontro e hai detto, certo, c'è tanto da parlare anche dei treni italiani, d'altronde lo dico, ti faccio pubblicità subito, così non mi accusano di piageria, tu ci hai dedicato anche un libro ai treni di lusso, ve lo metterò poi qui a fianco, così che possiate vederlo, e merita tanto. Però guarda, parto subito con una domanda, perché quando si parla di treni in Italia, la prima cosa che dicono tutti, ah, la Napoli Portici. E' la cosa che divide tantissimo, assolutamente. Ma è veramente questo mito, c'è chi dice la Napoli Portici importantissimo, c'è chi dice, ma no, era poco più che un giocattolo, niente di che, e tu che sei un po' più del mestiere. Allora, la Napoli Portici è, allora, sicuramente è un mito, cioè partiamo da questo, partiamo sicuramente da questo punto, è un mito, perché è inutile negarlo, è stata la prima linea ferroviaria fatta in Italia, e fu fatta nel, in questo regno delle due Sicilie, che si collocava un po' in una posizione particolare, un po' a metà, diciamo, tra sfera di influenza, chiamiamola francese, e quella inglese. Perché dico questo? Perché i soldi, i capitali, che vennero impiegati per mettere insieme le ferrovie nel nodo napoletano, arrivarono dalla Francia, e furono di, fu capitale prevalentemente francese, perché gli imprenditori d'oltre Alpe avevano intenzione di espandere, praticamente, la loro sfera di penetrazione economica, commerciale, nel nodo napoletano, cioè pensando di sfruttare, quantomeno, il territorio napoletano per, appunto, il mercato francese. E quindi fu, fu proprio il capitale francese, in questo senso, ad essere impiegato proprio per la costruzione delle ferrovie nel napoletano. Cosa capitò, però? I francesi, poi, a quel punto, si ritrovarono di fronte a un'economia napoletana, diciamo, nell'interno, che non era particolarmente sviluppata, ecco, cioè non possiamo di certo paragonarla all'Inghilterra del XIX secolo, ecco, sostanzialmente. E per questo motivo la rete ferroviaria napoletana si ridusse praticamente a poco o nulla, anzi, collegò semplicemente la città di Napoli con i grandi centri, possiamo dire, ricreativi, che gravitavano intorno alla corte borbonica, perché la Napoli Portici nasce per collegare Napoli con la reggia di Portici, Granatello di Portici, poi fu costruita la Napoli-Caserta, sono tutte linee ferroviarie che gravitano intorno ai divertimenti della corte borbonica. Però, questo comunque fu abbastanza comune nell'Italia dell'Ottocento, perché anche la Milano-Monza nasce per gravitare intorno alla corte del vicere austriaco nel 1840, e anche la Torino-Moncaglieri nasce intorno, gravita intorno alla corte Sabauda. Forse, se proprio dobbiamo vedere dove inizia il primo vero e proprio sviluppo della rete ferroviaria in Italia, è in Toscana, è in Toscana, anche se poi il Gran Ducato verrà superato dal Regno di Sardegna, grazie a Cavour, ma con Cavour siamo già in un altro periodo, perché in Toscana i Lorena intendono proprio sviluppare il mezzo di trasporto ferroviario dalla capitale, quindi il Gran Ducale, da Firenze verso il porto di Livorno, e chiamano un personaggio molto particolare che è Robert Stephenson, che è il figlio di George Stephenson, l'inventore della locomotiva. Perché si chiamava Rocket? La Rocket, sì, in Inghilterra, la Rocket, e infatti il figlio Robert va nel Gran Ducato di Toscana e collabora appunto con i Lorena, con Emanuele Fensi, che era stato uno tra i promotori delle ferrovie in Toscana. Perciò diciamo che, per ritornare poi alla questione duosiciliana, infatti poi a quando Garibaldi arriva, il Regno delle Due Sicilie ha soltanto questa rete ferroviaria ferroviaria sviluppata in Campania, ma che gravita intorno a Napoli, non ha un'estensione grandissima. Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia non hanno nemmeno un chilometro di linea ferroviaria. Ecco, quindi... diciamo che c'è il mito sicuramente della Napoli Portici che è stato ingigantito come proprio primo mito della ferrovia in Italia, anche a Pietrarsa, all'opificio borbonico di Pietrarsa che costruiva le locomotive, che oggi è diventato il Museo Nazionale delle Ferrovie in Italia. Purtroppo, diciamo, nella realtà dei fatti poi non ha avuto quello sviluppo che invece c'è stato nel centro nord prima dell'unità. E quando è che invece la ferrovia ha iniziato a essere qualcosa di importante anche per la popolazione? C'è stato un momento in cui la popolazione ha iniziato a usare un po' di più la ferrovia? Cioè non è più stato solo qualcosa di prettamente commerciale o prettamente appunto un divertimento reale? Allora, in Italia questo sviluppo arriva particolarmente in ritardo perché questo lo dice molto bene il professor Stefano Maggi in un testo molto importante Storia delle Ferrovie in Italia nel quale parla che per lungo tempo dal 1861 fino al 1870, 1880 in Italia non... per indurre le persone ad utilizzare i treni non c'erano delle vere e proprie agevolazioni, eh? Comunque in alcuni casi era molto più conveniente utilizzare la diligenza o se non in pianura padana ricorrere praticamente all'utilizzo di di chiatte e quindi appunto andare anche addirittura in nave nave insomma trasporto fluviale ecco diciamo scusate essendo ligure dico nave dico nave in queste circostanze però dipende dalle zone d'Italia poi in modo particolare perché in generale in Italia il treno si comincia ad usare dal 1880 in avanti ecco di massa non tutte le regioni ecco insomma incontrano lo stesso sviluppo la mia regione per esempio la Liguria è un caso particolare perché con la ferrovia litoranea da Genova verso Ventimiglia inaugurata all'inizio degli anni 70 dell'Ottocento cambia completamente il paesaggio e cambia completamente il mondo dei trasporti perché se da prima era preferibile trasportare merci e persone via mare da Genova verso Ventimiglia adesso con la linea ferroviaria anche il panorama dei trasporti poi comincia a cambiare quindi poi lentamente cose come diligenze postaloni o navi passeggeri per piccoli spostamenti cominciano a venire meno interessante quando abbiamo fatto la pillola sull'Oriente Express avevo voluto aggiungere una parte che mi avevi raccontato tu lo posso anche svelare in una serie di messaggi su Whatsapp che erano veramente cioè avrei dovuto prendere quei messaggi e registrarci una pillola sopra perché erano perfetti devo essere sincero una delle cose che mi aveva colpito per chi non si ricorda se volete andarvi da recuperare che quando nascono i treni diciamo un po' più moderni quindi con le cucette la possibilità di dormire tutto il resto inizialmente nascono diciamo due strade diverse la strada americana che poi è la prima ad uscire in cui i treni sono più spartani vengono i sedili si allungano diventano dei letti non c'è una divisione tra le varie stanze e invece la via europea diciamo più di lusso in cui si creano le cabine e che insomma è un po' il classico la storia appunto dell'Oriente Express la cosa che mi aveva colpito è che mi avevi raccontato che la via americana in Europa non attecchisce cioè attecchisce in America dove forse all'epoca erano un po' più spartani ma non da noi attecchisce solo in Italia dove viene un po' esportato questo metodo americano e viene fatto in Italia ma questo perché? perché eravamo un po' più poveri e quindi ci facciamo bastare qualunque cosa perché non aveva ancora attecchito l'idea che il treno potesse essere qualcosa anche appunto di lusso o perché tutto questo? no semplicemente perché da noi allora dobbiamo innanzitutto fare una precisazione il treno di lusso ovviamente non è rivolto a una clientela che noi potremmo definire popolare perché la clientela popolare ahimè al tempo non si poteva proprio permettere un viaggio praticamente in treni in treno di lusso cioè il treno di lusso nasce proprio per servire la società europea dell'ottocento che si arricchisce con la rivoluzione industriale alla quale poi ovviamente si uniscono le aristocrazie in modo particolare dell'Europa centrale e orientale in Italia tutto questo comincia ad arrivare con molta fatica perché poi l'Italia lentamente approda diciamo a una sorta di rivoluzione industriale con tutti prendendo prendiamo sempre con le pinze questo discorso perché poi in Italia la rivoluzione industriale riguarda solo il triangolo del nord ovest ecco poi sostanzialmente e per questo motivo l'Italia può fare affidamento soltanto su una clientela di carattere internazionale cioè su persone che arrivano dall'Inghilterra dalla Francia dalla Germania quindi se vogliamo dirla tutta sono stati più i gusti stranieri a condizionare il mondo dei trasporti di lusso in Italia piuttosto che noi piuttosto che noi italiani ecco comunque insomma far avere diciamo una nostra opinione ecco un nostro parere quanto meno fondamentale ed è stato semplicemente nella natura delle cose poi perché è avvenuto questo passaggio come appunto si era detto nella pillola sull'Oriente Express appunto Nagle Makers direttore della CUL si scontra con Pullman direttore dell'omonima compagnia proprio sul suolo italiano e in modo particolare sulla valigia delle Indie e qual è la cosa straordinaria che fa a mio giudizio Nagle Makers riesce a fare un'operazione straordinaria perché Pullman era ben radicato in Italia dall'inizio degli anni 70 dell'800 cioè Pullman era arrivato in Italia dopo essere prima arrivato in Inghilterra Pullman americano per chi non si ricorda Nagle Makers quello che ha creato l'Oriente Express belga si e Pullman si era ben radicato in Italia e aveva fatto un paio di contratti con due nostre reti all'epoca non c'erano le ferrovie dello Stato c'erano dei privati che avevano le loro compagnie in Italia e tra l'altro siamo prima del 1882 in questo caso quando poi lo Stato decise di rilevare le reti ferroviarie ma di concederle sempre ai privati cioè lo Stato aveva la proprietà delle ferrovie ma poi affidava l'esercizio a privati prima dell'82 erano linee ferroviarie private e gestori privati Pullman aveva fatto un contratto con due società strade ferrate dell'Alta Italia e strade ferrate meridionali quindi aveva praticamente il controllo di quasi tutta la penisola Nagelmakers dopo il 1876 riesce ad ottenere una deroga importante a questi contratti che Pullman aveva siglato in Italia riesce a far sì che le proprie carrozze lette su questo treno fantastico che era la valigia delle Indie che andava da Londra a Brindisi che in precedenza era gestito tutto da Pullman riesce a far sì che le sue carrozze lette vadano da Londra a Bologna da Bologna a Brindisi ci sono quelle di Pullman i viaggiatori così della valigia si possono rendere conto effettivamente quale sia la carrozza migliore o quella di Nagelmakers o quella di Pullman è un'operazione diciamo che è un'operazione di immagine assolutamente sensazionale ecco insomma cioè per far capire quale sia la tipologia di carrozza migliore e nella quale si possa comunque stare meglio però ricollegandomi alla tua domanda e questa è una cosa che facendo il libro mi ha sorpreso mi ha sorpreso perché questo modo di Pullman di concepire le sue carrozze letti come un unico spazio aperto che di notte veniva trasformato in una sorta chiamiamolo di dormitorio a me ha sorpreso ma la stessa compagnie internazionale de Vagonlì quando riuscì ad avere tutta l'Italia in suo possesso dal 1886 in avanti ancora ai primi del novecento quando doveva costruire delle carrozze letti destinate esclusivamente all'Italia ci sono due o tre piccoli gruppi allestiti esattamente come le carrozze di Pullman quindi evidentemente in Italia si era consolidato un certo modo di viaggiare quindi credo che questo rispondesse più che altro alle possibilità economiche che quantomeno avevano i nostri connazionali per la maggior parte almeno quelli che grosso modo erano riusciti ad arricchirsi parlo della borghesia cittadina ma che comunque non erano in grado di affrontare spese come quelle che derivavano dalle classiche carrozze dell'Oriente Express che ovviamente portavano molta meno gente e dovevano costare di più perché le cabine occupavano fisicamente spazio eccetera è una visione interessante e invece nel resto d'Europa questa cosa non c'è stata cioè solo da noi è stato particolare solo da noi esatto particolare infatti a me ha sorpreso perché insieme con le persone con cui ho avuto modo di potermi confrontare per la preparazione del libro è un è un aspetto che letteralmente mi ha sorpreso e che ha sorpreso anche loro perché è un aspetto questo delle vicende della compagnia internazionale dei vagonli che era effettivamente poco noto perché studiando carrozza tipologia per tipologia mi rendo conto che è uno sporco lavoro però qualcuno lo deve fare vedere vettura per vettura effettivamente venivano fuori posti tipo pullman ai primi del novecento in Italia effettivamente come erano allestite le carrozze una parte una metà erano concepite come le normali carrozze della compagnia quindi scompartimenti privacy eccetera un'altra metà della vettura posto pullman ma una domanda invece allora l'Oriente Express noi forse perché per quanto in realtà temporalmente non siamo così lontani però il secolo il novecento qualcuno l'ha chiamato per un pezzo almeno un secolo breve ma in realtà è talmente pieno di fatti ed eventi che anche un po' il nostro modo di vivere e pensare è talmente tante volte cambiato che ci sembra veramente che l'inizio del novecento sia qualcosa di lontanissimo in realtà è passato poco più di un secolo però diciamo che quello che ci trasmette l'idea è che l'Oriente Express fosse anche un po' uno status symbol per chi era ricco che poteva permettersi di fare quel viaggio quando ne abbiamo parlato tu mi avevi anche raccontato che in realtà all'epoca non era necessariamente sì era uno status symbol il poterlo usare ma per tanti era anche il mezzo più veloce e migliore per raggiungere certe destinazioni in Oriente potersi spostare verso l'India è un po' come io sono convinto che magari tra 40 anni ci ricorderemo il periodo del Concorde come uno status symbol usare il Concorde ma in realtà ci sono anche tante persone che lo usavano perché dal punto di vista lavorativo erano avvantaggiate dall'arrivare qualche ora prima in America o viceversa ecco in Italia questo tipo di treni che non credo che dato che comunque si muovevano sulla nostra penisola dessero dei grossi vantaggi rispetto a un treno normale erano solo uno status symbol soprattutto magari per gli stranieri che lo utilizzavano o avevano anche dei vantaggi per cui a un certo punto si era creato appunto un livello di media borghesia che li utilizzava perché ne aveva dei vantaggi dal punto di vista economico lavorativo queste cose qua cioè erano di lusso o era comunque un lusso che dava anche dei vantaggi per cui c'era poi tutta una parte che invece li utilizzava peraltro sì perché a un certo punto dai primi del novecento in poi diciamo gran parte della società medio alta italiana comunque comincia ad utilizzare comunque questi collegamenti e le carrozze della compagnia stessa perché noi allora il treno il treno di lusso se permetti Gioede volevo farti volevo proiettare una cosa diciamo una carta che secondo me può anche essere utile per capire bene il ragionamento per quanto riguarda l'Italia allora appunto questo poi in modo particolare arriva dagli anni a partire dai dopo la grande guerra questo vantaggio effettivo per quanto riguarda gli italiani perché gli italiani dopo la grande guerra si ritrovano proprio ad essere in mezzo alla rotta del nuovo oriente espressa appunto deciso a Versailles a Tavolino e questa posizione perché poi il treno praticamente attraversa le Alpi nella zona di Briga a Domodossola quindi del Sempione arriva in pianura padana questa posizione dà un fortissimo vantaggio economico alla pianura padana perché rispetto al vecchio percorso che passava attraverso la Germania e i Balcani da qui ci si mette molto meno ci si mette molto meno e che come dicevi fu cambiato dopo la prima guerra mondiale perché prima ovviamente c'erano anche pressioni politiche per farli passare attraverso Germania e Austria con la sconfitta nella prima guerra mondiale il loro peso politico si azzera a quel punto si può passare anzi meglio passare dagli stati vincitori esatto meglio passare dagli stati vincitori e oltretutto qua per esempio faccio quella che doveva essere poi in sostanza la proiezione dei collegamenti appunto derivanti dal siplono dall'Oriente Espresso e poi in modo particolare dopo il primo conflitto mondiale quindi proseguire anche oltre per andare direttamente verso l'India poi questo arriva da un libro di una ricercatrice greca Irene Anastasiadou che secondo me è comunque molto interessante gli italiani comunque in questo frangente cominciano ad utilizzare i servizi offerti dalla compagnia lentamente diciamo a partire dagli anni 20 poi in modo particolare perché anche in Italia a partire dagli anni 20 si fa strada una tipologia di treno che trovo assolutamente straordinaria e che quando ne parlo fa abbastanza sorridere in Italia praticamente nasce c'è questa tipologia di convoglio che appunto la media alta società italiana comincia ad utilizzare e sono dei treni di lusso ma non notturni sono dei treni di lusso diurni che per uno strano caso di omonimia si chiamano treni pullman ma è per un per uno stranissimo caso di omonimia perché la vicenda inizia a partire dal dalla prima guerra mondiale proprio per questo che quello che ti dicevo qui perché durante la prima guerra mondiale diciamo in la compagnia internazionale De Vagon Li fa un'operazione che rimane segreta la compagnia internazionale De Vagon Li acquista la Pullman Company di visione inglese è un'operazione straordinaria un'operazione assolutamente straordinaria e ci riesce grazie a un personaggio che si chiama Davison Desiel che ha fatto sposare sua figlia con René Negelmakers che è l'ultimo figlio di Negelmakers praticamente quindi ha posizionato ha legato il suo nome a quello di Negelmakers questo personaggio Desiel diventa il direttore della Pullman Company inglese per conto della C.U.L. la C.U.L. mantiene segreta questa questa diciamo questa acquisizione per moltissimo tempo e poi questo personaggio entra a far parte del consiglio di amministrazione della compagnia negli anni venti negli anni venti la compagnia vuole rinnovarsi vuole rinnovarsi perché ha perduto comunque il mercato russo dopo la prima guerra mondiale e siccome la velocità dei treni negli anni venti stava aumentando perché c'erano locomotive a vapore che erano in grado di raggiungere la velocità per l'epoca altissima di 140 km orari cosa che per l'epoca voleva dire già tanto la compagnia decide di sperimentare un settore nuovo chiamiamolo così un settore di treni saloni diurni che vengono proposti da questo Desiel che manda queste sue carrozze che puoi vedere qua alle mie spalle che sono della Pullman Company e la cosa particolare è perché vengono chiamate Pullman proprio perché mantengono questa enorme scritta sopra il montante dei finestrini però qua appunto sulla sinistra vedi che c'è scritta poi la ragione Compagnie Internationale le due cose si uniscono la compagnia dell'Oriente Express che usa le carrozze Pullman ancora di più e la cosa molto particolare è che questo primo servizio praticamente viene fatto in il primo servizio in assoluto Pullman della CUL europeo viene fatto in Italia viene fatto tra Milano Nizza e Cannes nel 1925 e viene fatto con carrozze inglesi che ancora oggi circolano tra Londra e la costa della Manica è facile pensare guardando quelle città che sono unite è facile pensare quello che dicevi prima che queste cose servano principalmente agli stranieri perché portano da Milano che fa un po' da centro verso il basso c'è Montecatini quindi le terme dall'altra parte ci sono i porti da una parte Livorno dall'altra Ancona che uno dice perché devo andare a Livorno perché è un porto per dirigersi da un'altra parte palesemente quindi si vede che è una cosa e da tutto questo il sud comunque ne rimane tagliato fuori sì c'è un misero tentativo almeno io lo chiamo misero tentativo poi mi uccideranno per questo nel 1929 di istituire un treno appunto Pullman Roma-Napoli però è un treno che purtroppo ebbe una stagione brevissima possiamo dire di esistenza soltanto nel 1929 non venne più rinnovato devo dire che al meridione andò molto meglio e qua purtroppo dobbiamo fare un piccolissimo passo indietro gli andò molto meglio nel periodo della Belle Epoque perché durante la Belle Epoque vi erano moltissimi servizi istituiti tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento che avevano come da una parte come punto di partenza Copenaghen Berlino e Vienna e dall'altra questi convogli giungevano a Napoli Palermo e Taormina se noi consideriamo che poi a partire dall'inizio del Novecento iniziano ad essere traghettati i treni da una parte all'altra dello stretto di Messina beh la possibilità di traghettare carrozze e carri con posizioni diverse dall'altra parte dello stretto apre anche la possibilità di fare dei treni di lusso dalla Germania dal nord Europa verso la Sicilia col porto di Napoli invece c'era un rapporto un po' diverso perché spesso e volentieri i collegamenti che venivano realizzati erano come diciamo base di partenza per andare poi a prendere dei piroscafi diretti verso l'Africa settentrionale uno per esempio particolare è un treno chiamato Egypt Express che partiva da Berlino via appunto Brennero-Verona giungeva in Italia e arrivava a Napoli in coincidenza con la partenza del piroscafo per Alessandria d'Egitto e c'era la possibilità di proseguimento per il Cairo io ho trovato questi questi orari eccetera da queste pubblicazioni estere molto molto particolari quindi non erano comunque dei collegamenti diciamo solo come posso dire una sorta di Versailles su ruote come è stata definita da molti avevano una loro logica per gli italiani nello specifico queste cose cominciano ad essere maggiormente comunque utilizzate proprio dagli anni venti in poi no però è molto affascinante questa questione del turismo una delle cose che mi aveva colpito quando l'avevi raccontato era quanto ma è poi ovvio pensarci quanto fosse difficile aspetta 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 che qua se non puoi rimane quanto fosse difficile per l'epoca pensare di organizzare un lungo viaggio perché voleva dire mettere insieme linee ferroviarie diverse compagnie diverse con orari diversi e poi c'era il piroscafo e poi c'era magari un pezzo da fare in maniera diversa cioè era molto difficile organizzare e viaggiare è affascinante pensare quanto le cose siano cambiate per l'epoca era tutta una novità noi oggi siamo molto abituati a questo noi siamo abituati a questo modo di viaggiare dove tutto è organizzato o quasi ecco insomma dobbiamo pensare che all'epoca non esistevano degli esempi precedenti di viaggi organizzati viaggio organizzato nel senso prendere un treno andare da appunto chiamiamo andare da Milano a Cannes per esempio come in questo caso questo è il treno di lusso Salone Milano-Cannes che era l'antesignano di tutti i treni internazionali che adesso dà la Lombardia vanno verso la Francia eccetera e qui siamo a Borgioverezzi nel 30 nel 32 33 ecco grossomodo ci sono cinque giorni in quel posto quella ferrovia che a Docaresso si è diventata una passeggiata no Borgioverezzi ancora al treno ci passa ma non l'hanno impostata non è ancora quello ancora lì no per il momento ancora c'è poi hanno deciso di togliere anche quella anche questo è molto particolare ecco a mio giudizio per l'epoca poter pensare di andare in stazione a Milano all'agenzia appunto all'agenzia di viaggi della compagnia internazionale de Vagon Lì e poter prenotare anche il posto nell'albergo al tuo arrivo direttamente dall'agenzia non era una cosa così semplice o quantomeno concepibile a quel tempo ma la compagnia internazionale de Vagon Lì ha avuto proprio questo merito cioè quello di essere stata forse una delle primissime compagnie nel mondo a permettere questo tipo di servizio e in Italia poi in modo particolare ha avuto i suoi risvolti ma poi per esempio in questi giorni questa l'avevo preparata apposta si è parlato tanto dei collegamenti ferroviari per esempio istituiti tra Milano e Parigi di recente attraverso il Frecciarossa ecco che giorno d'oggi ci sembra comunque una 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 grande conquista pensate che anche in questo la compagnia internazionale de Vagon Lì aveva già anticipato tutti i suoi tempi con un collegamento diurno eh diurno non notturno come anche nella pillola con l'Oriente Espresso diciamo si era avuto modo di parlarne ma con collegamenti diurni quindi era possibile andare da Milano a Parigi in una giornata e in questo caso ce l'hai proprio di fronte questo serpente metallico che vedi qui di fronte con vetture in due colori eh con la fascia bianca crema ai finestrini è appunto questo treno pullman della compagnia internazionale de Vagon Lì in una Milano centrale inaugurata da pochissimo eh siamo proprio nell'estate del 31 e qui appunto è il convoglio che sta partendo per andare a Chiasso poi da lì sul Gottardo poi da lì Belfort e da lì per Parigi che meraviglia incredibile molto bella tra l'altro molto bella la foto utilizzare in queste cose le fotografie perché le fotografie ecco a mio giudizio possono essere molto utili per capire proprio direttamente di che cosa nel senso si sta più che altro parlando perché è stato poi anche il bello della ricerca ecco in questo la ricerca fotografica è stata anche una cosa abbastanza complicata è sempre una delle cose più belle quando si cerca informazioni scoprire quello che non ti aspetti e vederlo posso chiederti in chiusura una domanda più riguardo al libro l'abbiamo fatto vedere prima e l'avevo già fatto vedere durante la piddola una cosa che però mi ha incuriosito è dove sei andato a cercare le informazioni mi hai detto a Roma però hai cercato cioè ci sono dei siti istituzionali che raccolgono siti non internet siti fisici che raccolgono queste cose hai cercato molto magari anche tra gli appassionati perché mi dà una cosa mi dà l'idea di essere una di quelle cose per cui ci siano gruppi di appassionati che hanno magari nel tempo raccolto biglietti orari tutte cose che aiutano a ricostruire un po' la realtà che hai raccontato sì allora purtroppo diciamo che a livello istituzionale ti dico c'è poco o niente diciamo ti dico è stato un lavoro anche di di sinergia perché partiamo da questo concetto in Italia purtroppo le opere sulla compagnia internazionale dei wagon lì e il suo ruolo in Italia diciamo come base di partenza per me per cominciare a lavorare c'era poco e niente assolutamente poco e niente ma anche come immagini perché attenzione nel senso le immagini in questo caso aiutano tantissimo immagini orari regola regolamenti disposizioni anche delle nostre ferrovie c'era pochissimo c'era pochissimo in circolazione per cui sono ricorso grazie anche all'aiuto di amici dall'estero a opere scritte all'estero in modo particolare in Francia e in Germania per aiutarmi nella nella ricerca quindi per fare dei completamenti ecco generalmente sul tutto e quindi è stato più che altro andare a cercare testi che anche in Francia e in Germania non vengono più pubblicati da 40 da 40 anni circa ormai sono diventati anche loro completamente introvabili e andare a cercare in questi libri i i riferimenti all'Italia ecco comunque perché ci sono dei riferimenti all'Italia ecco comunque in questo frangente ti ho fatto vedere ancora nel frattempo qualche immagine di qualche interno sembra veramente dei salotti tra l'altro se dovevano frenare se davano una frenata secca seduto lì ti ribaltavi dovunque cioè vabbè sì quello sì sì ha facciato della sicurezza sì sembra quando fanno vedere quelle foto di 50 40 anni fa delle amache per i bimbi che mettevano sulle macchine che uno dice guarda anche lì se fregni ti trovi davanti insomma considera che nelle vetture di prima classe le poltrone non erano fisse in alcuni casi si potevano anche spostare quindi si ribaltava l'uomo con la tuba e tutto il resto quindi bellissimo bellissimo e lì cinema di staglieolio puro poi c'era il tipo che suonava il pianoforte la musichetta d'accompagnamento quindi insomma sei quella da cinematografo quella veloce sì 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 e anche la ricerca fotografica in questo senso è stato un po' un lavoro ecco di aiuto e sinergia con amici nel senso che mi hanno dato una mano ecco comunque per esempio le ultime in foto che ti ho fatto vedere sono sono riuscito ad individuarle nell'archivio storico delle ferrovie francesi grazie a un mio caro amico inglese che vive a Montpellier da molti anni e che è proprio uno studioso di compagnia internazionale dei vagoni letto ecco insomma quindi si tratta sempre di lavori di sinergia ma anche fotografie che per esempio la fotografia del treno a Borgio Verezzi queste poi sono le storie eccetera ce l'aveva un mio concittadino un mio concittadino nel nel cassetto e nel senso era la prima volta che la tirava fuori dal cassetto cioè non si era non si era praticamente mai vista quell'immagine figurati poi nel mondo degli appassionati di treni un'immagine del genere che che risultato possa aver prodotto ma ti dico poi il bello comunque di questa ricerca di materiali come dici te è una cosa che non finisce mai perché guarda sarebbe inutile farti l'elenco anche delle persone che dopo la pubblicazione del libro mi hanno detto ma sai ho trovato delle fotografie in più in casa di questo dei materiali che ti servono per esempio un mio caro amico di La Spezia mentre mi trovavo a Roma nei mesi scorsi mi ha aiutato a cercare un ordine di servizio delle ferrovie dello Stato dei primi del novecento nei quali si parla delle disposizioni per la circolazione dei treni di lusso in Italia c'è tariffe regolamenti come insomma tutta una serie di formalità burocratiche anche per decidere i pasti a bordo ecco una cosa del genere eppure anche un altro collezionista storico e collezionista che è Adalassio che ha un'attività ben avviata in questo che colleziona di tutto lui fai conto che potrebbe ricostruirsi queste carrozze in casa sostanzialmente perché ha le poltrone alle abasur ai tessuti cioè ha un campionario di roba che ci ha lavorato ci ha lavorato infatti e mi ha fatto vedere un'immagine che io è veramente straordinaria ed è la prima volta che comunque io veniva a conoscenza di questa informazione che addirittura una carrozza pullman o un gruppo di carrozze pullman della CUL compagnia internazionale dei vagonli quelle dedicate ai servizi interni italiani avevano le scritte in italiano che è il bello della ricerca insomma poi che non si non non si sono quelle cose sono quelle cose che ci sembrano comuni cioè io penso adesso quante cose beh adesso vabbè adesso è un caso particolare perché adesso ci sono talmente tanta documentazione tante foto tanto tutto che poi un giorno sarà difficile magari andare a scovare quello che interessa però mi rendo conto come una volta come non fosse così facile fare una foto eccetera non facevi le foto alle cose comuni non facevi la foto al treno che passa perché per te era comune non facevi la foto alla scritta in italiano sul treno perché per te era normale che fosse così non pensavi che tuo nipote avrebbe si sarebbe chiesto come fosse all'epoca e c'è un film c'è un film che è un uomo venuto dal passato non mi ricordo come si chiama in cui c'è questo uomo che è un uomo di Cro-Magnon che in qualche modo è sopravvissuto fino ai tempi moderni gli chiedono perché non hai tenuto degli oggetti perché io non mi tengo un oggetto di uso tu ti terresti un abiro magari tra mille anni quel abiro sarebbe un reperto incredibile ma tu non la terresti mai e qui uguale sicuramente ci sono centinaia di migliaia di foto sulla prima guerra mondiale ma sul treno come era fatto il treno che portava i soldati in trincea c'è molto molto meno perché per loro era comune per dirti questa qua sempre Milano Centrale appena inaugurata questa l'ho trovata io nel senso dopo perché fotografie per esempio dell'Oriente Express in Italia ce n'erano pochissime o quantomeno di quello degli anni 20 che poi è il più bello sostanzialmente non ce n'era quasi nessuna girovagando sui siti di compravendita di cartoline fotografie eccetera mi imbatto in questa quando ho guardato il treno io ho detto non è possibile non è possibile è lui perché allora per questi poveri disgraziati che siamo noi appassionati di treni riferisco alla mia categoria a cui faccio parte da 20 anni di carriera ormai abbastanza onorata ingrandendo sulle carrozze appunto ho riconosciuto la fisionomia del treno perché a quell'epoca aveva tre bagagliai in questo caso tu ne vedi due abbastanza ti dico malamente però questo più piccolino è un bagagliaio opposta probabilmente destinato a postumia e poi qui è il secondo bagagliaio con questa diciamo vedetta adesso magari forse si vede poco che serviva per appunto il capotreno e qui era la carrozza dove c'erano anche le docce per i viaggiatori nel caso in cui volessero appunto insomma lavarsi insomma si sperava e poi qui la teoria di carrozze letti le sei carrozze letti appunto destinate alle varie destinazioni quindi da Parigi per quelle limitate a Trieste poi quelle per Istanbul poi quelle per Atene e quella per Bucharest e poi la carrozza ristorante e il bagagliaio qui probabilmente il convoglio è appena arrivato da Domodossola perché la locomotiva appunto si è appena parcheggiata appunto qui cioè quindi a volte trovare le cose per puro caso e per colpo d'occhio chissà quante persone l'hanno vista passare e non si erano mai accorte cosa fosse quel treno pensavo fosse un treno normalissimo come tutti gli altri insomma magari no ma infatti infatti va bene va bene io ti ringrazio tantissimo per averci raccontato tutto questo e sono molto contento di averlo fatto raccontare a te perché appunto come dicevo all'inizio che che tu sia bravo a raccontare di questa tua passione me ne ero accorto fin da quando mi avevi contattato appunto per per scrivere insieme la pillola perché ripeto praticamente l'hai raccontata tu attraverso la mia voce e questo è tenendo veramente merito so che fai ogni tanto degli incontri tra appassionati di treno dove racconti magari anche queste cose oltre che parlare del tuo libro se siete interessati ovviamente a questi argomenti anche perché credo che non ci siano molti libri in Italia che ne parlano vi rimetto a fianco l'immagine del suo libro se volete andare a curiosare ho visto che anche dal punto di vista iconografico è veramente molto molto bello da vedere quindi complimenti per il lavoro che hai fatto e grazie mille di averci dedicato un po' di tempo e di averci raccontato tutte queste meraviglie del passato ma grazie a te e grazie a voi ecco io sono io sono molto felice diciamo di queste di poter parlare del mio libro e insomma del perché io l'ho fatto con enorme entusiasmo ecco insomma anche mostrare le immagini per me è sempre comunque bellissimo ecco insomma quindi sappiate che se vi si è annoiato non lo si è fatto apposta come diceva Manzoni ecco insomma grazie mille a presto a tutti grazie di aver seguito un'altra intervista ci vediamo presto qua sul canale grazie ancora a Francesco Bocchicchio a presto arrivederci ciao